E salve a tutti let's player, il mio nome è AnforGamer85 e oggi siamo in questo nuovo club Come potete vedere ragazzi siamo a mare, siamo finalmente a mare Era tantissimo che aspettavo di venire qui, oggi è il mio primo giorno, come potete vedere le condizioni in cui sono appena uscito dall'acqua Non fate caso al mio petto muscoloso, si proprio muscoloso era stato pura Comunque ragazzi a parte gli scherzi, sono felice che sto qui a mare, sto facendo questo vlog Così neanche troppo lungo, ne troppo corto, giusto per parlare un po' con voi Spero che voi stiate passando una buona domenica, penso alcuni di voi come me saranno a mare, staranno Staranno sicuramente, io ragazzi sto passando veramente una buona domenica Domani ragazzi vi farò uscire il vlog, vi farò uscire un altro vlog Nel quale praticamente parlerò del resoconto di quello che è stato il mio compleanno Di quello che mi hanno regalato diciamo, un po' tutto Quello che ho passato il 24 giugno Come ho scritto su facebook, chiaramente quel giorno non sono usciti video Però comunque neanche ieri purtroppo sono usciti Ve lo spiego subito il perché, purtroppo ho avuto impegni Non ho avuto tempo di caricare gli ultimi episodi, mi sembra, gli ultimi episodi rimangono da caricare da famiglia Griffin Non appena li caricherò domani se ce la faccio e li carico Anzi prima caricherò il vlog in modo veloce In modo veloce In modo veloce lo caricherò, non ci vorrà molto E subito dopo caricherò gli altri due video Perché così almeno poi dal 28 possiamo ripartire Possiamo ripartire tranquillamente con la nuova serie Che devo dire un attimino di prepararla Perché ci vorrà un po' perché vada tutto come ci deve Perché il gioco che vi sto a proporre sul canale è abbastanza difficile È tosto Quindi non so davvero come usciranno i video Non so se riuscirò a metterci la webcam Perché ultimamente raga Per chi lo sa Sto avendo un casino di problemi a registrare con la webcam Perché ogni volta che renderizzo il video mi lagga a bestia Mi lagga la webcam E niente Comunque raga Vi ricordo come sempre di seguirmi sulle mie pagine Facebook, Instagram e Instagram Comunque raga davvero è più facile randomizzarmi con voi su Instagram Su Instagram non siamo più di 70 Mentre su Facebook che siamo adesso in it Ci vorrà un po' perché il pubblico possa crescere Comunque io vi ricordo che vi lascio sempre in descrizione Pagine, Facebook e Instagram Per andare a vedere i video che ho fatto Magari vi lascerò anche in descrizione I video dell'ultima settimana Magari quello della mia collezione giochi PS1 Vi lascerò Che vi lascio magari o qua Sono in pressione O sotto in descrizione Vi lascerò Se ne avrò il tempo Oppure vabbè raga Comunque Ripeto Spero che voi Stiate passando le buone e bene le vacanze estive Io per fortuna Che quest'anno Ne sto passando senza pensare alla scuola Perché l'anno scorso purtroppo Come vi avevo raccontato Vi ho dovuto passare attraverso i debiti E quindi la mattina per me Era un attimino difficile fare i video Però comunque il pomeriggio Poi io se ne caricavo di video Perché facevo Facevo video su video Ma comunque Per quanto riguarda raga E le news Riguardanti Gli voglio dire che L'ora in avanti Non lavorerò più con Maestro Gamer Non lavorerò più con Maestro Gamer Perché lui ha Se ne è voluto andare Non capisco il perché Scusate Scusate di raga la nozione Però C'era un mega Vespone C'era Che ho voluto evitare C'era un Vespone Comunque Dove ero rimane Un Vespone Comunque stavo dicendo Non lavorerò più con Maestro Gamer Per motivi Che lui se ne è voluto andare Ma vabbè Vedrò se riuscirò ad aprire La mia serie personale Riguardo Minecraft Anche se voi sapete raga Come il mio rapporto con Minecraft Arriverò sul canale anche Clash Royale Perché diciamo Ho scaricato l'emulatore Android Ho scaricato E ci ho installato Clash Royale Vedrò se riuscirò anche A portare FIFA 16 FIFA 16 Ma Sì Penso che lo farò Penso che farò anche FIFA 16 E niente Questa sono Pi o meglio In generale Le serie che avrei Intenzione di fare Sperando Sperando Che Non avrò problemi Quindi ragazzi Comunque Vi ricordo Vi faccio un breve Chiare della situazione Un riassunto Chiare della cosa Seguitemi sulle mie pagine Facebook e Instagram Prima di tutto Quindi domani uscirà il blog Per quanto riguarda il resoconto Di quello Che ho fatto durante il mio compleanno Che ho fatto 16 anni 12 anni Sì per chi se lo stesso chiede Io ogni ho 16 Non Non c'è Sembra Non c'è 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 Quindi stavo dicendo Pagine Facebook e Instagram Il vlog di domani Oggi cari Vedrò di riuscire a caricare questo vlog Spero di farcela in tempo A caricarlo E poi All'inizio qua vicino Ragazzi Stanno facendo karaoke Che E praticamente Stanno Stanno cantando Canzoni Strane Infatti penso Ti avete sentito il bambino Cantava Vabbè Comunque ragazzi In poche parole Se il video vi è piaciuto Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciarmi un commento Un piaccio E continuare a iscrivervi Al canale Come vi ho ripetuto In tutto il vlog In tutto questo vlog Iscrivetevi Iscrivetevi A mia pagina Facebook e Instagram Per rimanere aggiornati Su quello che farò E in più Ci rivediamo Al video di domani